Se nelle indagini d'Italia oggi la provincia di Foggia ha guadagnato qualche posizione, in quella storica del sole 24 ore la capitanata arretra, posizionandosi nella parte bassa della classifica. Oltre al terzultimo posto di Reggio Calabria, spicca in negativo la presenza di province campane come Avellino, Salerno, Napoli e Caserta. E Pugliesi, Foggia al centotresimo posto, Lecce al centoquattresimo, Brindisi al centoseiesimo e Taranto al centonovesimo, tutti in arretramento. La maglia nera è caserta, per il giornale economico la migliore qualità della vita si respira sulle Alpi con Belluno, che si aggiudica alla ventottesima edizione dell'indagine e con città come Aosta, Sondrio, Bolzano, Trento e Trieste. Per quel che concerne invece l'indagine di Italia oggi, l'altro importante quotidiano economico italiano, la provincia di Foggia si è classificata all'ottantanovesimo posto, ma in ascesa rispetto allo scorso anno, quando era novantacinquesima.